E' un'esito finale di questa battaglia Con scompiglia perchè è un fatto tardissimo oggi Ditemi la vostra nei vostri commenti Mettete i pollici in su E aspetto i vostri commenti Sul mini Sulla vostro Quello che pensate Diciamo Sull'act 38 Quello finale Dell'archi infiniti di Salmon Crystal 3 Noi ci vediamo con la review Di Salmon Crystal 3 Ultimo atto Ciao e al prossimo video Ciao Ciao